Servono punti al Pescara dopo il deludente match disputato tra le Muramiche contro la Torres arriva subito dopo una Re Canatese che è in buona forma nel campionato di Serie C sedicesimo di lì a poco il Pescara pressa in modo furioso riesce a garantire la conclusione con il destro a Tommasini la parata del portiere in due tempi è decisiva per la Re Canatese Re Canatese che però poco dopo rischia grossissimo su un calcio di punizione del solito Tunjob e bisogna aspettare il 32esimo per vedere l'ennesima occasione in favore del Pescara stavolta è Merola a concludere davanti al portiere ospite senza riuscire a trovare il gol del vantaggio gol del vantaggio che arriverà poco dopo Tommasini stoppa splendidamente di petto al 35esimo e con il destro riesce a freddare il portiere ospite per quello che è il gol dell'1 a 0 Pescara in vantaggio gli ospiti faranno di tutto per tornare a galla qui grande parata di Plizzari sulla respinta però siamo al 61esimo arriva Morrone che tocca da due passi e trova il centro dell'1 a 1 era stata splendida la parata di Plizzari ancora una volta in gran forma Morrone però trova il pari la Re Canatese è un'occasione grandissima sul calcio d'angolo poco dopo tocco veramente sotto misura e sfera che va ad impattare sulla traversa Zeman perplesso evidente infatti lo spavento per la traversa di Peretti ma poco dopo lo spavento sarà ancora più grande per il pallone giocato da Melchiorri in favore di Lipari che riesce a saltare ad ubriacare Brosco e a concludere sul primo palo imparabilmente però per Plizzari grande centro qui e grande dribbling da parte dell'attaccante ex Juventus next generation il Pescara avrà la forza di trovare il nuovo pari ancora qui con un calcio di munizione splendido da parte di Cangiano calcio di punizione che segue sostanzialmente di appena due minuti il centro del vantaggio della Re Canatese Pescara che proverà poi a premere fino alla fine c'è anche Cuppone mandato dentro da Zeman e proprio Cuppone si divora clamorosamente il possibile vantaggio all'84esimo sottraendo la palla a mano poi un errore di Merola in fase di costruzione siamo al 91esimo lascia a sbaffo la possibilità di penetrare in area di rigore sbaffo con uno splendido tacco serve Lipari è il gol del 2-3 che chiude definitivamente i conti all'Adriatico ancora una debacle stavolta particolarmente dolorosa per il club di Zeman fischi e contestazioni al termine del match situazione che inizia a farsi difficile Pescara non riesce davvero a rialzare la china Pescara non riesce